di padre iraniano e madre italiana. Durante il liceo classico, a 14 anni, inizia a studiare teatro. Nel 1994 consegue la maturità classica. Dopo il liceo segue lo Shakespeare Addition Course, tenuto da Rodney Archer al Covento Garden. A Londra, nel 1995-96 frequenta un corso di teatro di 22 years acting course City Lit, tenuto da Archer, e nel 1999 si diploma alla Gildall School of Music and Drama di Londra. Nel 1999 debutta sul grande schermo con il film La Balia, regia di Marco Bellocchio, al quale fanno seguito, tra gli altri, Nella terra di nessuno, regia di Gianfranco Giagni, e Benzina, regia di Monica Stambrini, entrambi del 2001, La vita degli altri, 2002, regia di Nicola De Rinaldo, la meglio gioventù, regia di Marco Tullio Giordana, buongiorno, notte, regia di Marco Bellocchio, è il vestito da sposa, regia di Fiorella in fascelli, tutti e tre del 2003, ed infine L'amore ritrovato, 2004, regia di Carlo Mazzacurati, dopo tutti questi lavori il New York Times, 2 maggio 2004, le dedica una pagina, definendola la nuova icona del cinema italiano. Inoltre riceve vari premi e riconoscimenti. In televisione ha recitato nelle miniserie TV Einstein, 2008, regia di Liliana Cavani, e David Copperfield, 2009, regia di Ambrogio Lo Giudice. Tutto può succedere. 2015-16, il 14 giugno 2013 vince il David di Donatello per la miglior attrice non protagonista, per il film Bella addormentata di Marco Bellocchio. Ha una figlia, Talita, avuta dal compagno Fabrice Scott.